Robin Hood, il principe dei ladri, è l'argomento di questo episodio, quindi faremo un excursus partendo da qualche cenno storico ma mi limito e invece andando bene a vedere questa famosissima figura in letteratura e al cinema ovviamente. Prima di entrare nel vivo dell'episodio però vi ricordo gli appuntamenti con il Gatto Rosso che sono ogni venerdì alle 18 in diretta su Radio Svolta e gli episodi si possono ascoltare direttamente dal sito della radio che è radiosvolta.it e poi restano sempre disponibili in podcast su Spreaker, Spotify e i principali distributori di podcast. Possono anche essere ascoltati questi podcast dal sito della radio, basta andare sull'apposita pagina che è radiosvolta.it slash podcast. Va bene, allora Robin Hood, figura famosissima, arcinota, su cui sono stati fatti numerosissimi film ma prima ancora numerose opere letterarie e che affonda però la sua essenza in una certa realtà storica. Ora, non è troppo chiaro se si possa far coincidere esattamente la figura di Robin Hood con un singolo personaggio storico vedremo che forse è più probabile che sia nato da una mescolanza di vari personaggi storici anche perché la leggenda di Robin Hood è nata sotto forma di storie orali che quindi passando di bocca in bocca sono state rimaneggiate, sono state fatte delle aggiunte sono comparsi nuovi personaggi e nuovi elementi quindi le cose si sono tanto mescolate e complicate e probabilmente è un po' un'utopia andare a individuare l'esatto momento della nascita del personaggio con un particolare e unico individuo storico e forse credo che sia anche un po' una pretesa insana ovvero quella di voler per forza veder concretizzati in una persona, in un evento, dei simboli perché poi, ammesso che Robin Hood sia nata da una singola persona poi questa figura ha trasceso la persona specifica ed è diventata appunto un simbolo che andremo a sviscerare per bene nel contesto letterario e come nel caso di altre leggende che abbiamo esaminato quindi Rare 2 ad esempio o a personaggi proprio di penna tipo Dracula ecco andare per forza a voler trovare un preciso riscontro storico con un personaggio non ha molto senso e è piuttosto poco sensato ha più a che fare con veramente un desiderio comprensibile ma è un po' da arginare di voler vedere concretizzati quelli che a tutti gli effetti sono poi diventati dei simboli nella letteratura e come tali andrebbero trattati però diciamolo un minimo il contesto storico anche perché poi lo ritroveremo nei romanzi soprattutto di Striscio, nel Ciri ma più che altro nei romanzi vi darò poi man mano in ogni capitolo la bibliografia quindi l'episodio è diviso di fatto in tre parti nella prima parte storica, la seconda letteraria e la terza cinematografica nel tentativo di separare realtà e finzione molti storici hanno provato a identificare il misterioso bandito con un personaggio storico concreto come accennavo a metà del XIX secolo l'archivista Joseph Hunter segnalò un Robin con la Y Hode che nel 1324 era valletto del re Edoardo II e in seguito aveva abbandonato il suo incarico come si racconta nella ballata Leggesta di Robin Hood in cui l'eroe si stanca della corte e fa il ritorno alla foresta ma non ci sono indicazioni che questo Hode fosse un fuorilegge più di recente Graham Phillips e Martin Kitman hanno incrociato una grande quantità di dati storici con le leggende fino a concludere che Robin Hood fosse una fusione di tre personaggi distinti un contadino proscritto della foresta di Barnstale intorno al 1225 un Robert Hood di Wakefield soldato dell'esercito ribelle del conte di Lancaster che entrò poi al servizio di Edoardo II nel 1324 il che coincide in parte con il candidato Robin Hood difeso da Hunter e la terza figura è un certo Falk Fitzwarin uno dei baroni che si ribellarono al re Giovanni d'Inghilterra tra il 1200 e il 1215 lo stesso Falk Fitzwarin divenne un personaggio leggendario e fu protagonista di un romanzo composto attorno al 1325 e in effetti contro Giovanni d'Inghilterra ci fu una ribellione a causa delle elevate tasse che gli ha imposto per vari motivi che adesso non andiamo a vedere però questa ribellione non riguardava tanto una colorita allegra compagnia che abitava in una foresta quanto le classi nobiliari e quindi baroni eccetera che erano quelle più spremute quindi è una cosa molto più prosaica di fronte a queste ipotesi l'unica certezza è che nei documenti del XIII e del XIV secolo si possono trovare vari riferimenti a fuorilegge bracconieri, banditi o fuggitivi chiamati Robin Hood o con nomi simili uno dei più antichi proviene da un registro giudiziario dello Yorkshire nel nord dell'Inghilterra che nel 1226 cita l'esproprio dei beni di un certo Robert Hood descritto come fuggitivus nel 1262 c'è un riferimento simile a un tal William Robert Hood questa volta nel Berkshire nel sud-est del paese sicuramente si tratta della stessa persona alla quale un documento dell'anno prima si riferisce come William figlio di Robert Lefebvre definendolo membro di una banda di proscritti nel 1354 un po' più a nord nel Northamptonshire si parla di un certo Robin Hood in prigione in attesa di processo per dei crimini commessi nella foresta di Rockingham questa varietà di testimonianze fa pensare che non ci sia stato un unico Robin Hood come dicevo ma che si tratti di un soprannome tipico dei proscritti ovvero che magari si è una figura che è partita da uno o più individui ma poi successivamente altri individui hanno usato il nome Robin Hood come titolo o soprannome quindi il soprannome usato in epoche in luoghi distinti dell'Inghilterra medievale e quindi come vedete le cose sono un po' più complesse e anche un po' più confuse è significativo in questo senso un episodio avvenuto nel 1441 quando un gruppo di proprietari rurali di South Acre Norfolk bloccò la strada gridando siamo uomini di Robin Hood e minacciando di uccidere un magistrato nel 1296 compare per la prima volta il cognome Robin Hood sempre con la Y e questo cognome apparteneva a un uomo di nome Gilbert della contea meridionale del Sussex in varie località soprattutto nei rintorni di Burstdale la foresta dove erano inizialmente ambientate le avventure di Robin Hood compaiono toponimi nomi di luoghi come Robin Hood's Cave la grotta di Robin Hood oppure il campo di Robin Hood oppure la croce di Robin Hood eccetera eccetera ok quindi si è capito che la situazione è più complessa un po' più confusa anche di quello che si possa pensare forse è veramente un'utopia beccare l'originario Robin Hood però se siete interessati all'argomento della storicità o presunta del personaggio un buon punto di partenza è il sito di National Geographic sezione storica vi lascio il link in descrizione e poi c'è anche un saggio pubblicato da Odoya è del 2017 quindi piuttosto recente si intitola Robin Hood la vera storia di un fuori legge l'autore è James Holt ma passiamo alla letteratura perché ben presto le gesta di questo di questi personaggi ovviamente sono diventate leggenda storie che sono state tramandate di bocca in bocca e che hanno prodotto all'inizio delle ballate e opere teatrali e poi romanzi molte opere e ne vediamo ovviamente solo alcune perché il materiale è talmente tanto che l'episodio si potrebbe prolungare per ore e risulterebbe anche credo solamente enciclopedico e noioso quindi vediamo le cose salienti e poi chi è interessato giustamente approfondisce nel XV secolo le avventure del bandito si riversano in una composizione letteraria molto specifica le ballate e come le chansons de geste francesi o le romanze castigliane le ballate inglesi erano un tipo di letteratura fondamentalmente orale poi sono state trascritte quindi parecchie restano sono fissate in antologie che trovate tranquillamente in libreria in alcuni casi queste ballate provenivano dai canti composti da trovatori o menestrelli che erano più vicini ai fatti narrati magari ecco questi fatti venivano molto conditi dopo essere stata ideata una ballata passava di bocca in bocca e i particolari venivano appunto trasformati nel corso di generazioni fino a che qualcuno non decideva di fissarla in forma scritta le ballate di Robin Hood più antiche e conosciute Robin and Gandalin e Robin Hood and the Monk risalgono a metà del XV secolo quindi nella prima Robin non è ancora ben riconoscibile è interessante poi vedere che i vari personaggi e i vari elementi si aggiungono nel corso di decenni secoli addirittura e inizialmente Robin è ritratto nel suo ambiente abituale mentre caccia cervi nella foresta il cognome Hood non compare il protagonista muore colpito dalla freccia di un certo Rennock e sarà vendicato da un altro personaggio dove invece la familiare figura del fuorilegge si ritrova già pienamente sviluppata è quest'altra ballata Robin Hood and the Monk quindi Robin Hood e il monaco in questa ballata compaiono finalmente Little John e altri allegri compagni i Merryman tra cui Mutch e Scathlock che poi diventerà Scarlet durante le peripezie descritte l'eroe deve affrontare un monaco corrotto e lo sceriffo il nostro Robin rischia la vita per andare a pregare la Madonna in una chiesa di Nottingham e si dimostra sempre fedele alla corona cosa che poi rimarrà ovviamente tendenzialmente poi lo vedremo fedele a un re in particolare che è Riccardo Guardi Leone mentre Giovanni Senzaterra è un po' una figura antagonista nel XVI secolo le ballate si moltiplicano soprattutto grazie alla stampa fu allora che comparve le gesta di Robin Hood la narrazione più lunga e completa sul proscritto medievale è una ballata che sembra un compendio di vari episodi che potrebbero essere stati originati separatamente e diffusi oralmente fino al momento in cui poi sono stati raccolti e stampati è interessante poi notare che la figura di Robin Hood si intreccia per tanto tempo a una festività popolare quella del May Day è praticamente una festa di primavera c'era una festa simile anche nell'antica Roma che era Floralia e accenno solo brevemente a questo aspetto durante questa ricorrenza c'era il May King il re di maggio che si travestiva da leggendari warciere e bandito mentre venivano inscenati i May Day Games questi giochi di maggio poi c'erano anche delle recite basate sulle ballate dedicate a Robin ed erano accompagnate queste recite da gare di tiro con l'arco e duelli con i bastoni tutti elementi appunto che erano ripresi dalle ballate dalle storie l'argomento ballate lo considero chiuso qui non ci insisto tanto veniamo piuttosto a tempi più recenti e ai romanzi però le trovate in forma di antologia e di raccolta quindi opere teatrali ovviamente anche lì c'è Robin Hood abbiamo due commedie scritte da Anthony Monday con la U nel 1598 tra le varie cose cito sempre le opere principali sono rispettivamente The Downfall e poi The Death of Robert Earl of Huntington cioè la caduta e l'altra è la morte di Robert Earl e Conte se non erro di Huntington dunque queste commedie cominciarono a imporre una ancora più definita immagine del personaggio collocandolo negli anni di Riccardo Cuor di Leone e rifacendosi a un bandito nobiluomo realmente esistito nel XII secolo il già citato appunto Falk Fitzwarren nemico giurato di Giovanni senza terra e da lì poi ritroveremo sempre questo Giovanni senza terra come antagonista un po' un ridicolo cattivo molto esoso e invece il prote e coraggioso Riccardo Cuor di Leone e la presenza di Robin Hood non manca in alcune commedie di Shakespeare più che altro come citazione ad esempio in I Due Gentiluomini di Verona e in Come Vi Piace c'è poi anche un accenno a Lady Marian questa esce dalle labbra di Falstaff nell'Enrico IV parte prima mentre nella seconda parte il giudice Silence intona il verso di una ballata che cita Robin Hood Scarlett e John veniamo ora alle opere in prosa alle antologie ai romanzi quindi a narrativa un po' più recente relativamente e opere che poi sono diventate dei classiconi con la sempre maggior diffusione dei libri stampati si moltiplicarono le raccolte delle tante ballate orali ma anche gli scritti originali ispirati alla leggenda di Sherwood al punto che nel 1795 Joseph Ritson un cognome che ritroviamo forse non casualmente poi nei romanzi di Dumas e ci arriviamo tra poco tentò di mettere ordine pubblicando una fortunata antologia intitolata appunto Robin Hood precisando tra l'altro nell'introduzione che l'eroe si chiamava Robert Fitzhut era nato all'incirca nel 1160 a Loxley e rivendicava il titolo di conte di Huntington e poi questi sono elementi che troviamo anche in Dumas e in opere successive il testo di Ritson fu poi sfruttato da Walter Scott per creare il suo Ivano nel quale viene infatti ampiamente citato Robin Hood e l'Ivano è la prima opera letteraria in prosa veramente importante che ha fatto conoscere Robin Hood al grande pubblico soprattutto anche al di fuori dell'Inghilterra e poi Dumas ma Dumas è particolare ci arriviamo tra poco perché prima dobbiamo parlare di un autore che sicuramente è molto meno conosciuto ma è fondamentale un certo Pierce Egan il giovane costui ha scritto un'opera che è molto importante credo non nota quanto l'Ivano e i romanzi di Dumas ma è molto importante e questa opera è Robin Hood and Little John or the Merryman of Sherwood Forest uscito nel 1840 ma ha puntate un paio di anni prima e qui già viriamo sul versante romanzi e racconti per ragazzi ed è solo a questo punto che entra in gioco il nostro Dumas ovviamente Dumas padre infatti nel 1872 e nel 1873 vengono pubblicati postumi i ben noti romanzi su Robin Hood questi sì che hanno veramente contribuito all'affermazione della figura di Robin Hood veramente in tutta Europa questi romanzi sono Il Principe dei Ladri e Robin Hood il proscritto però questi romanzi non sono altro che una traduzione un po' rimaneggiata del libro scritto da Pierce Sagan e sono ben poco farina del sacco di Dumas nonostante si pensi che siano suoi romanzi non è così la maggior parte delle successive opere letterarie cinematografiche sono ispirate in parte più piccola a questi romanzi di Dumas che comunque hanno dato un po' un'ampia diffusione ma il grosso soprattutto delle opere cinematografiche è dovuta ad un'opera di poco successiva a un romanzo che si intitola Le avventure di Robin Hood The Merry Adventures of Robin Hood dello scrittore e illustratore americano Howard Pyle questo è tipicamente un romanzo per ragazzi che riunisce riassume e riadatta diverse gesta di Robin Hood qui mi soffermo un po' meglio sui romanzi di Dumas che è un autore che ricorre qui alla biblioteca del Gatto Rosso per ovvi motivi insomma narratore abile molto prolifico che ha lasciato insomma delle opere piuttosto rilevanti soprattutto per quel che riguarda i romanzi d'avventura i due romanzi su Robin Hood sono stati pubblicati postumi dalle Editions Lévy che poi sono stati aggiunti nell'opera completa di Dumas ma questi libri abbiamo detto sono una traduzione del romanzo britannico di Pierce Egan in cui Dumas anche se non esattamente ha abilmente sforbiciato le parti più farraginose e noiose secondo i vari biografi di Dumas quest'ultimo sostanzialmente si accontentò di firmare una traduzione realizzata dalla sua collaboratrice e amante Marie de Fernand che firmò sotto il nome di Victor Perceval e fu lei in particolare a realizzare la traduzione di Ivano pubblicata sotto il nome di Dumas sempre nel 1862 quindi dieci anni prima non sorprende quindi che non si ritrovi il solito modo di raccontare di descrivere i luoghi i personaggi che è tipico di Dumas sicuramente Robin viene descritto come cavalleresco valoroso generoso leale certamente lo sceriffo di Nottingham viene descritto come tirannico violento avido però a queste opere di Dumas non di Dumas manca quel qualcosa che ci ha fatto tanto amare odiare i suoi personaggi e soprattutto che non ci ha mai lasciato indifferenti lo stile è un po' lento è un po' pesante piatto in alcuni casi procede a riassunti però sicuramente non mancano di aneddoti queste storie il succo di questi due romanzi sono vari aneddoti avventurosi che riguardano Robin Hood alcuni molto simili tra loro però questi romanzi alla fine non fanno altro che ripercorrere il filo della leggenda senza quella vera rielaborazione dei personaggi che fa Dumas ad esempio nel Conte di Monte Cristo o nei Tre Moschettieri e quindi l'interesse principale di questi romanzi è stato quello di aver fatto conoscere l'intera leggenda nel resto d'Europa e ovviamente poi i film ne rievocano di queste gesta soltanto una parte alcuni episodi c'è una particolare versione cinematografica di Robin Hood tra tutte quelle realizzate che sono tantissime che in particolare è un riadattamento proprio di questi romanzi e si tratta del Principe dei Ladri del 48 con John Hall nel ruolo di Robin Hood ovviamente questo aspetto di Dumas che si avvale di altri collaboratori non è nuovo per chi conosce questo autore l'ho fatto più volte anche in opere molto ben riuscite insomma che sono ritenute ormai dei grandi classici come il Conte di Monte Cristo o i Tre Moschettieri per queste si è avvalso dell'aiuto di Maché tra gli altri questi personaggi oggi li chiameremmo Ghost Rider all'epoca non erano chiamati così ma comunque Dumas aveva una vera e propria officina una sorta di piccola industria per quel che riguarda la produzione di testi letterari quindi magari la prima stesura la facevano i suoi collaboratori e poi lui faceva un'abbondante revisione in cui limava tanto quindi non è che lui ci metteva la firma e basta no no c'era una importante impronta per quel che riguarda la rifinitura e il completamento dell'opera fatto sta che tanti dei suoi romanzi non vanno attribuiti unicamente a lui e se volete poi possiamo approfondire questo argomento in un episodio dedicato e in descrizione vi lascio il link a un sito di un'associazione culturale dedicata proprio a Dumas dove potete approfondire questo argomento e anche altre cose riguardo insomma al celebre autore io salto quella che è la trama dei romanzi sono interessanti ancora leggibili ripeto è un po' sinceramente il peggio di Dumas comunque di qualità decente e anche perché queste vicende bene o male sono note soprattutto attraverso il cinema mi voglio focalizzare più che altro sul riprendere il personaggio di Robin Hood letterario perché mi sono imbattuto in degli incredibili sfondoni che poi andremo a vedere allora anzitutto Robin è caratterizzato nelle opere letterari nei romanzi da audacia generosità lealtà un senso di giustizia che sfiora continuamente il sacrificio di sé Fitz Hallwin lo sceriffo di Nottingham è caratterizzato da un'arrogante stoltezza e fungerà poi da prototipo per una nutrita schiera di sbirri e servi sciocchi del potere i rapporti di Robin e dei suoi compari con il potere sono improntati alla beffa più che alla violenza considerati anche i tempi e la situazione e tant'è che non è che Robin deruba i ricchi con rapine a mano armata quindi armi a tutto spiano tendenzialmente quando gli allaghi compagni qualche vedetta individuava dei viandanti facoltosi di passaggio soprattutto normanni perché ricordiamoci di mezzo c'è tanto una faida sassoni contro normanni che succedeva che poi spuntava fuori Robin Hood che invitava questi viandanti ad un lauto banchetto in loro onore e da vedi che presentava un conto salato che di solito coincideva con tutti gli averi del viandante di turno ovviamente lui si sceglieva tipicamente nobili oppartenenti al clero che avevano fatto questi soldi essenzialmente spremendo le classi più umili quindi sì una minima dose di violenza c'è in questi romanzi ma è molto molto limitata e poi Robin Hood si può ben considerare un sognatore perché se è vero che non si arrenderà mai a nessun potere è altrettanto vero che non riuscirà mai ad essere a sua volta potere non tradirà mai la foresta per il palazzo Robin è una sorta di Peter Pan un po' un eterno adolescente con il rifugio nella foresta che è la sua isola che non c'è l'abbigliamento d'altronde è molto simile è quasi uguale se la figura di Robin Hood nei romanzi è molto ben definita io tuttavia in siti che dovrebbero fare didattica mi sono trovato di fronte a degli sfondoni incredibili a delle bufale e la bufala più ricorrente è una confusione in cui si asserisce che Robin Hood è un antieroe perché siccome ruba ed è un fuorilegge allora è un antieroe e non potrebbe essere più stupida questa cosa vediamo il motivo di questo errore e io ho affrontato già il tema eroi e antieroi in letteratura in un apposito episodio il titolo è esattamente eroi e antieroi vediamo brevemente gli elementi dell'eroe l'eroe tradizionale è dotato di un grande coraggio che di conseguenza lo può portare senza timore al sacrificio di se stesso per proteggere il bene altrui o quello della comunità a cui appartiene da notare che di per sé il coraggio non basta giustificare l'atto di sacrificio per gli altri l'eroe deve aderire in modo assoluto a specifici principi morali senza possibilità di deroghe o sfumature ulteriore caratteristica che permette l'azione straordinaria dell'eroe è il possesso di abilità o facoltà superiori a quelle degli altri uomini tale superiorità può essere fisica e molto molto al di sopra delle capacità umane come quella dei supereroi ad esempio superman ma la superiorità può essere tecnica ad esempio quella di robin hood nel tiro con l'arco o può essere intellettuale la capacità intellettiva e deduttiva di uno sherlock holmes il passaggio all'antieroe avviene per rovesciamento di alcuni aspetti e soprattutto nel voler dare una tridimensionalità cioè un passaggio da un personaggio piatto a un personaggio tridimensionale che quindi è caratterizzato anche da grigi quindi da zone di morale più ambigua che invece l'eroe tradizionale non ha ha una moralità più definita l'eroe e il personaggio di robin hood ce l'ha una moralità ben definita nonostante sia un fuorilegge perché è perché le sue ruberie sono viste in maniera assolutamente positiva dal popolo dalle classi più umili a chi ruba robin hood lui non ruba a tutti diciamo di solito che ruba ai ricchi non è precisa questa cosa lui ruba a chi si approfitta degli altri tendenzialmente dicevamo i normanni anche se poi fa delle eccezioni e fa delle eccezioni anche con la nobiltà e infatti con qualche personaggio lui si comporta in maniera diversa e ci diventa amico o magari lo invita a entrare nei propri ranghi riconoscendogli il valore quindi è ben definita l'azione di robin hood e soprattutto è morale perché e credo che di mezzo ci sia la confusione tra legge e giustizia in queste vicende di robin hood nei romanzi la legge è vista come predatoria gli uomini di legge sono avidi arroganti robin hood è quello che fa giustizia quindi gli pertiene una morale più elevata degli uomini di legge è lui il personaggio morale il giusto e quindi inevitabilmente è chiaro che robin hood è un eroe punto fine della storia è il più classico degli eroi se volete approfondire il tema eroe e antieroe vi consiglio un ottimo articolo del professor andrea bernardelli l'antieroe dai mille volti vi lascio il link in descrizione molto ben fatto e molto esaustivo allora vi cito alcune scempiaggini che io ho trovato in scuole di scrittura e in siti di didattica ne ho prese tre ma ce ne sono tante altre ad esempio cito da l'accademia di scrittura appunti di scrittura creativa questo è il testo letterale di sicuro ti sei imbattuto più di una volta in un antieroe un esempio nella letteratura classica conosciuto da tutti robin hood il ladro che ruba i ricchi per dare ai poveri nato dalla cultura popolare anglosassone e reso famoso della duma nel 1872 è un personaggio con caratteristiche negative è un uomo avido violento che usa metodi al di là della legge che compie azioni positive però aiuta i bisognosi e difende la patria credo che le opere letterarie andrebbero lette meglio e con più spirito critico poi autocrit questo è un sito in inglese vi traduco direttamente il testo sempre una scuola di scrittura creativa robin hood è un classico antieroe letterario che ruba i ricchi il che è male per dare ai poveri il che è bene i suoi atti indubbiamente criminali per non dire politicamente motivati ci costringono ad ammettere che dovrebbe essere rinchiuso ma fa quello che fa per motivi nobili il suo personaggio desidera la rivoluzione di fronte alla tirannia ed è per questo che la storia la sua storia è durata per secoli anche qui insomma una lettura estremamente superficiale che dimostra poca comprensione della materia eroe antieroe e anche del testo di partenza o poi qui veniamo ancora peggio a Starry Smarter che è una piattaforma didattica per studenti inglese e cito qui riguardo al Robin Hood di Howard Pyle del 1883 Robin Hood è un classico antieroe anche qui vabbè lui ruba i ricchi per aiutare i poveri di conseguenza fa del bene aiutando gli oppressi ma fa anche del male infrangendo la legge e vabbè potrei continuare molto a lungo con scempiaggi di questo genere che denotano veramente ignoranza e basta mi rincresce vedere cose scritte in siti dedicati a didattica che vengano dette al bar queste cose ci sta insomma ci mancherebbe e chi se ne frega ma che qualcuno che fa del suo mestiere l'insegnamento scriva queste bestialità insomma è abbastanza grave sì è vero alcune scuole di scrittura sono uffa purtroppo purtroppo è vera questa cosa non vuol dire questo che tutte le scuole di scrittura creativa lo siano allora chiusa questa buffa parentesi che mi ha colpito sinceramente ve l'ho riportata perché io mai nella mia vita avrei pensato di trovare delle bufale per quel che riguarda l'ambito della letteratura e soprattutto di storie così famose eppure ci sono che vedebo di passiamo al cinema ovviamente i film su Robin Hood e le serie tv sono in quantità sterminata non ve le sto a elencare tutte perché sarebbe un qualcosa di noiosissimo e inutile prendo in esame solo alcune opere e mi fermo su ancora meno un po' vi potete aspettare i titoli che vi proporrò la primissima opera è del 1908 film muto un altro film muto più famoso è del 22 e vede Douglas Fairbanks nel ruolo del nostro amato bandito il film però che di più ha impresso l'immagine di Robin Hood credo nell'immaginario collettivo di tutto il mondo è il film del 1938 che è La leggenda di Robin Hood film a colori ebbe un gran successo vinse ben tre Oscar per scenografia montaggio e colonna sonora e il nostro Robin è interpretato da Errol Flynn oggi magari ci dice poco però se vedete un'immagine di questo film immediatamente lo riconoscete come Robin Hood Robin Hood ha la faccia di Errol Flynn e a dire il vero c'è anche un'altra faccia che vediamo più tardi perché il capolavoro del cinema ovviamente l'ho tenuto per ultimo poi abbiamo Olivia de Havilland che è Lady Marian attrice che ha avuto una carriera più lunga di Errol Flynn Errol Flynn è stato un divo importantissimo alla sua epoca però è morto relativamente giovane sui 50 anni circa Olivia de Havilland è stata molto molto più longeva e se non è remorta nel 2020 quindi molto molto di recente poi abbiamo un altro nome importante nei panni di Sir Guy di Gisborne e questo attore è Basil Rathbone magari non vi dice niente questo nome però sicuramente l'avete visto nei panni dello Sherlock Holmes degli anni 40 è quello un po' che ha fatto esplodere lo Sherlock Holmes in quegli anni lì poi abbiamo Claude Rains nel ruolo del principe Giovanni anche lui attore famosissimo soprattutto per un ruolo che abbiamo già citato più volte qui alla biblioteca del Gatto Rosso che è l'uomo invisibile del 33 da cosa è caratterizzato questo film anzitutto dalla tenuta tipica e dal piglio di Robin Hood molto scansonato allegro e dalle calzamaglie in questo film ci sono tantissime calzamaglie anche tra gli armigeri che dovrebbero portare delle cotte di maglia si vede guardando bene che quelle cotte in realtà sono di tessuto adesso non vi so dire esattamente quale allora io non so dirvi se i costumi di questo film fossero il top dell'epoca oppure no non sono così preparato sul cinema degli anni 30 però questa cosa degli armigeri in calzamaglia che vi dico risalta parecchio e comunque questo film è tra tutti il più fedele allo spirito dei romanzi da cui prende ovviamente solo alcuni episodi Errol Flynn è perfetto nel ruolo di Robin Hood e anche il personaggio è azzeccatissimo c'è un'ottima recensione più lunga di quella che vi ho fatto io di Roger Ibert che vi lascio in descrizione chi non lo conoscesse Roger Ibert è un importantissimo critico cinematografico morto nel 2013 vincitore tra le altre cose di un premio Pulitzer con cui non sempre io sono d'accordo ad esempio sulla cosa di Carpenter non sono minimamente d'accordo con lui però questa e altre recensioni insomma sono di ottima qualità e soprattutto lui è un personaggio di spessore vi cito un brevissimo estratto della sua recensione scrive Ibert l'avventura di Robin Hood è stato realizzato con un'innocenza sublime e una maestria mozzafiato in un'epoca in cui i suoi valori semplici erano veri in questi giorni cinici lui la scrive nel 2003 questa recensione in questi giorni cinici in cui i film di K e Spada non possono essere presentati senza un sottotesto ironico questo grande film del 38 esiste in una eterna estate di coraggio e romanticismo non abbiamo bisogno di sottotesti freudiani né di analisi revisioniste è sufficiente che Robin voglia derubare i ricchi pagare i poveri e difendere i sassoni non da tutti i normanni ma solo da quelli cattivi infatti nel film Robin dice è l'ingiustizia che odio poi ah qui salto mi spiace scusate ma io sapete che non mi occupo di Disney c'è però un'opera importante famosissima che sicuramente anche questa ha lasciato ampiamente il segno che è appunto la versione in Disney di Robin Hood del 73 è quella in cui per intenderci Robin Hood è una volpe ok però sorvolo passo velocemente il film del 76 con degli attoroni però che vi dico qui c'è un Robin Hood in tarda età stanco anziano siamo già dopo la leggenda ci si concentra tanto sulla storia d'amore che dire non è tanto convincente il film sto parlando di Robin e Marion interpreti Sean Connery Robin Hood Audrey Hepburn Marion Ian Holm Re Giovanni allora veniamo ai film più moderni e credo che la maggior parte di noi si ricorda questi sono due resta da ultimo il capolavoro ci arrivo e sono anche i meno azzeccati sono molto fuori fuoco uno è il film molto noto del 91 Robin Hood principe dei ladri grande successo ottimi incassi che però però si è giudicato anche un Rezzi si è beccato Kevin Costner è quello in cui poi c'è Morgan Freeman che fa a Zim il moro che Robin si porta dietro dalle crociate c'è Christian Slater nei panni di un improbabile veramente Will Scarlett e un povero un povero Alan Rickman nello sceriffo di Nottingham che rende benissimo il personaggio che quindi è cattivo ma spesso caricaturale e ridicolo ma sembra che lui e Costner stiano recitando in film differenti ovvero Rickman è perfettamente nella parte del classico sceriffo di Nottingham e Costner fa un Robin Hood che non c'entra niente è completamente fuori fuoco un personaggio che veramente ha ben poco a che fare con Robin Hood per come lo conosciamo e qui in effetti Roger Hibert gli ha dato giù con l'accetta vi lascio sempre la sua recensione in descrizione lui elogia e mi accodo ha ragione le uniche prestazioni attoriali quelle di Morgan Freeman e quella di Alan Rickman il resto è molto poco Robin Hood ah beh c'è da citare un po' un ritorno interessante perché c'è Sean Connery che è stato un vecchio Robin Hood qui invece fa Re Riccardo ovviamente compare soltanto sul finale al ritorno dalle crociate e veniamo ad un altro Robin Hood che è completamente fuori fuoco quello di Ridley Scott siamo al 2010 è una sorta di prequel quindi questo film vuole far vedere come si arriva alla leggenda di Robin Hood partendo sempre dalle crociate o meglio da un po' dopo mentre Re Riccardo e i suoi sono di ritorno in Inghilterra si fermano in Francia per rivendicare alcuni feudi alcuni territori inglesi qui Robin Russell Crowe fugge in Inghilterra dove tiene fede ad un patto che aveva stretto con Loxley e prende sostanzialmente il suo posto e si trasformerà in quello che conosciamo cioè il Robin Hood e abbiamo poi Kate Blanchett che è Lady Marion molto improbabile che alla fine la troviamo in cotta di maglia quindi con 20-25 kg di ferro che va alla carica contro i francesi che stanno cercando di invadere l'Inghilterra ma la cosa ancora più imbarazzante è che la nostra Lady Marion si porta presso una serie di ragazzini che poi diventeranno la base della legge della compagnia e li manda la carica cioè una cosa criminale veramente allucinante e vabbè e qui il nostro Scott conferma e in Napoleon sta cosa sarà drammatica di avercela con i francesi niente qui i francesi sono cattivi hanno un traditore interno che è un inglese interpretato da Mark Strong e niente il nostro Scott ce l'ha proprio con i francesi quindi qui più che vedere Robin Hood vediamo gli inglesi contro una invasione francese sempre ai tempi di uno stupidissimo principe Giovanni che è interpretato da Oscar Isaac veniamo infine al capolavoro quello che ritengo il film meglio riuscito ci mancava la parodia e ovviamente doveva arrivare una storia così longeva non poteva non avere un film parodico e qui ce n'è uno che è strepitoso sto parlando di Robin Hood un uomo in calzamaglia del 93 del grandissimo Mel Brooks che recita anche in questo film parodizza il nostro Brooks fondamentalmente il film del 91 e quello del 38 chiaramente è a ridosso del film con Kevin Costner quindi lo blasta non poco infatti troviamo bello sguardo che si rifà al servitore cieco troviamo EC che si rifà al personaggio di Azeem ma soprattutto c'è una parodia anche di altri film ma soprattutto poi del Robin del 38 perché l'abbigliamento di Cary Elwes che è l'attore che interpreta Robin Hood è esattamente quello del Robin Hood del 38 e c'è poi la gag una scena in cui ci sono EC e Robin che distribuiscono a tutta Allegra Compagnia le calzamaglie di ordinanza quindi è ottimo film strepitoso ancora oggi magari un po' politicamente scorretto molto godibile comunque e ricordiamo Dave Chappelle grande stand-up comedian nel ruolo di EC appunto e Mel Brooks che recita fa la parte del rabbino Tuckman che sarebbe Frattac però in versione un po' diversa e alla Mel Brooks film che poi peraltro inserisce citazioni rimandi anche ad altri film quindi c'è qualche frecciatina pure fatta molto molto bene al padrino film strepitoso che comunque anche se è una parodia riesce a mantenere lo spirito e le caratteristiche fondamentali di Robin Hood quindi veramente da vedere ancora oggi ci sono film molto più recenti non abbiamo tempo e credo che ne vedremo ancora altri perché come dicevo Dracula i tre moschettieri eccetera quella di Robin Hood è una figura immortale che continua ad essere riciclata a volte in maniera impropria e con delle appropriazioni o una forte impronta ideologica e comunque fatto sta che è una di quelle figure letterari che valeva la pena di discutere perché è rimasta e rimarrà credo nella storia della letteratura e del cinema ci ho detto come sempre vi auguro buone letture buona visione e alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti